Non so quanto dura, 20 minuti, 30 minuti. Penso che più che sui valori si siano accordati sulle ricandidature, quindi è triste che la mediazione di un movimento che era nato rivoluzionario alla fine arrivi sul tema posti in Parlamento. Però a me basta che non rallentino l'attività del Governo. Un'altra cosa, domenica lei ha visto Lottito insieme a Michetti, così sembrerebbe? Sì, è casuale. Michetti non era casuale perché abbiamo parlato di Roma e siamo trovati a Fregene. Lottito era casuale, abbiamo parlato di calcio e ha portato bene evidentemente. Quindi in altre occasioni importanti riproporrò il tritico Salvini, Lottito e Michetti. Quindi non ci ha parlato di stadio? No.